Ciao ragazzi, un saluto dal team di MHE Detector, differenze tra una macchina digitale e una macchina analogica. La macchina digitale spesso e volentieri lavora con un microprocessore, elabora il segnale ed ha dei pulsanti a tocco o a sfioro addirittura, per non parlare dei touch screen, ma è una cosa molto rara che non troviamo sui metal detector comuni e specialmente quelli economici. Una macchina analogica viceversa può essere una con i classici potenziometri che ci permettono di trovare l'impostazione e per i più romantici amanti delle macchine che siano un po' più datate ha certamente un attimino di difficoltà in più perché non ci viene mostrato su uno schermo come reagisce la macchina e questi valori vanno settati a orecchio. Se per assurdo su una macchina analogica io volessi caricare una sensibilità un po' più alta del necessario e il terreno inizia a farmi falso segnale potrei ovviare limando la soglia. La soglia ripetiamo è quel rumore che ci permette di capire se la macchina è accesa e ci dà un ronzio che ci permette di stabilire se c'è un vero e proprio segnale oppure è soltanto il metal detector che ci dà un segnale di vita è acceso. Limitando leggermente la soglia andando un tantino ad abbassarla e a rendere audibile appena appena io posso alzare la sensibilità. Viceversa al contrario se mi serve un certo tipo di segnale e voglio che il detector risponda con chiarezza ad un segnale che sia più alto di quel tot volume di soglia con la soglia potrei addirittura discriminare questo con una macchina analogica tutti quei segnali che magari sono minimi quasi impercettibili. Allora abbasserò un filo la sensibilità e alzerò leggermente la soglia in questo modo la macchina analogica dovrebbe rispondermi a dei target di una massa leggermente maggiore a quella classica di una fine gioielleria che si può ottenere con una impostazione completamente opposta. Alta sensibilità e bassa soglia per la roba sottile quasi impercettibile minor sensibilità e soglia più alta se vado a caccia di qualcosa che abbia una massa più imponente e quindi una conduttività lievemente più alta. Una macchina analogica spesso e volentieri non è dotata di uno schermo dove possiamo andare a visualizzare valore di ferrosità e conduttività. Molte macchine un esempio fra cui il CTX 3030 di Minelab non solo ci fornisce questi dati ma addirittura il target trace che è un'impronta che è possibile vedere magari su delle macchine che fanno una scansione al di sotto del suolo come un georadar riprende questo tipo di funzione e ci lascia davvero la traccia sotto la piastra di quello che l'oggetto sta trasferendo e che quindi sta comunicando al detector. Un'impronta rossa con una macchia più che crea accumulo in un punto specifico può voler dire una vera massa e quindi un vero oggetto. Una macchia molto molto diradata e con delle macchie più chiare che magari tendono al rossiccio sempre più verso l'arancio vanno a lasciare una traccia differente che quindi non si concentra come un punto rosso nel mirino che viene fuori sullo schermo e quindi questo tipo di macchina VLF digitale ci permette di fare una scansione più accurata del singolo segnale sia sonora perché ci può dare un picco e un segnale specifico che noi possiamo impostare sia nel tono che nel picco ma anche un riscontro visivo a schermo per poter capire il tipo di massa che in quel momento sta passando al di sotto. Una macchina analogica avrà i suoi potenziometri non avrà magari lo schermo ci permette di trovare un'impostazione solo e soltanto diciamo a sensazione quello che si può ascoltare in base al ritorno delle nostre impostazioni e quello che noi percepiamo in cuffia. Dal suono e dal tipo di segnali che la macchina ci sta trasferendo noi dobbiamo gestire sensibilità, ground balance, pulse delay e tutto quello che magari in questo caso un pulse induction se parliamo di pulse delay può trasferirci. Quindi in una macchina analogica la cuffia è quella predominante per poter capire come la macchina si sta comportando e come sta funzionando. In una macchina digitale con uno schermo e tutte queste impostazioni noi possiamo renderci conto anche visivamente di quello che abbiamo fatto nel lavoro di impostazione. Ragazzi se questo video vi è piaciuto metteteci un like e se pensate che possa essere utile a un vostro amico condividetelo seguite le nostre pagine su youtube facebook e instagram. Al prossimo video ciao